Ciao Eugenio, Fabrizio Viterra, Gazzetta dello Sport. Partirei innanzitutto dalle condizioni di Valente, abbiamo visto dal report che ha fatto parzialmente lavoro col gruppo. Volevo capire in prospettiva, mancando ancora un allenamento della partita di Como, è pensabile che possa giocare la partita, non essere convocato, ma giocare la partita? E se non fosse così, immagino che questo implicherebbe chiaramente un cambio anche di sistema tattico. Grazie. Buongiorno a tutti intanto. Sì, ha preso una botta al ginocchio, ha fatto un lavoro differenziato un paio di giorni, oggi ha lavorato parzialmente in gruppo e l'ho visto oggettivamente libero. Ho la valutazione da fare rispetto al fatto che abbiamo ancora l'allenamento di domani e sul minutaggio, anche dal punto di vista mentale, parlerò da ragazzo, insomma quanto fastidio di poter procurare questa situazione, ma oggi l'ho visto libero. Dunque da questo punto di vista pensiamo proprio di poterlo recuperare, poi farò una valutazione insomma complessiva dal punto di vista tattico. Io penso che essendo arrivati comunque a questa parte della stagione dove per adesso mancano quattro partite, è difficile stravolgere qualcosa su cui hai lavorato, perché il tempo a disposizione non è tanto. Le alternative anche cambiando sistema comunque sono sempre non quelle corrette secondo me per sviluppare qualcosa di diverso e di conseguenza la valutazione è cercare di capire con una caratteristica diversa come poter andare a riempire quella posizione e lavorare magari sulla struttura del centrocampo dell'attacco, magari variando qualcosa rispetto alle posizioni che abbiamo assunto sino ad oggi. Mi arlaccia a quello che hai appena detto, facendo i debiti scongiuri, Valente non può giocare. L'ipotesi che sembra più naturale, non avendo tu più esterni a destra, non è più. Centrocampista ne hai uno, potresti giocare con, cioè di riserva chiaramente, potresti giocare con Verre trequartista puro con un centrocampo a tre dietro alle due punte? È una valutazione che abbiamo fatto anche prima di andare a Venezia rispetto a questo e avevamo comunque in quel caso Saric in più come centrocampista. Oggi mettendo Valerio sulla trequarti non avrebbe un'alternativa comunque reale lui sulla trequarti, avrei quattro centrocampisti per tre ruoli, con soprattutto sulla posizione dell'interno, delle attitudini secondo me con un campo da coprire dall'interno verso l'esterno non proprio corrette. Di conseguenza è stata una valutazione di consolidare quello che abbiamo fatto perché comunque sulla copertura del campo abbiamo sempre utilizzato un sistema che copriva l'ampiezza, coprire una densità centrale e andare a occuparla in movimento è una cosa totalmente diversa. Anche l'inidifensiva si deve lavorare in maniera totalmente diversa. Di conseguenza voglio consolidare qualcosa adattando qualche giocatore perché secondo me in questo momento è fondamentale e l'avete visto le partite sì hanno uno spunto sempre tecnico-tattico ma c'è anche un concetto emotivo, un concetto mentale di stare dentro in determinate situazioni, di volere veramente qualcosa anche sporcandoci un po', fra virgolette, ma è quell'obiettivo che abbiamo in testa di andare a cogliere, quella voglia di vincere che purtroppo ci rimane purtroppo strozzata in gola da parecchio tempo e di conseguenza su questi aspetti ho lavorato consolidando qualcosa, adattando magari una caratteristica rispetto a un'altra, però secondo me questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere da qui alla fine del campionato. Buongiorno Eugenio, Paolo Vennini del Corriere dello Sport. Senti a quattro giornate dalla fine inevitabilmente alcune valutazioni le devi fare anche dal punto di vista fisico, quindi ti chiedo intanto se avete dei dati o comunque avete consultato dei dati per capire se la squadra secondo te è una squadra che ancora ha il ritmo, al di là del fatto che molto parte dalla testa, insomma i dati ti dicono che è ancora una squadra che regge il peso di partite magari con il caldo maggiore come possono essere, anche se forse a Como è prevista pioggia, e in particolare tu hai dei difensori che hanno tirato la carretta tutto l'anno e in molti casi non avevi alternative, cioè avevi soltanto quei giocatori lì per il tarsetto di difesa o comunque per il reparto difensivo. Oggi qualche alternativa in più ce l'hai di giocatori che sono mi pare guariti o comunque disponibili. È il caso, comunque tu valuti la possibilità di fare qualche variazione anche in quel settore proprio per un fatto anche di maggiore motivazione di qualcuno che ha una possibilità di giocare e di incidere nelle partite finali? Da rispetto ai dati fisici, sia dal punto di vista allenamento e chi assiste agli allenamenti valuta veramente un'intensità molto alta, una grande applicazione che i ragazzi hanno sempre avuto. Quando andiamo a valutare dal punto di vista atletico la squadra ha sempre ottimi dati, ce li danno anche i dati della partita, rapportati anche alle squadre avversarie, di conseguenza la squadra secondo me è un'ottima tenuta, anche a Venezia stessa in un momento di difficoltà, comunque siamo andati a spingere fino alla fine recuperando comunque un gol di svantaggio a Parma, i giocatori del Parma avevano i crampi, noi abbiamo spinto sino alla fine, anche la partita col Benevento dal punto di vista atletico sicuramente era una partita fra virgolette con uno spazio più ampio perché anche il Benevento soprattutto nella parte finale cercava di tenere due o tre giocatori sopra la palla nella speranza di avere il contropiede corretto, di conseguenza in quei casi il campo si allunga e la squadra comunque ha tenuto bene dal punto di vista atletico, dunque siamo sereni da questo punto di vista. A livello difensivo, secondo me a volte, e l'ho sempre fatto nella mia carriera d'allenatore, quando consolido determinati meccanismi non è mai facile andare a cambiarli, non vedo giocatori in difficoltà né dal punto di vista atletico né tecnico-tattico. Graves che ha approcciato molto bene, in queste settimane comunque dobbiamo a volte gestirlo un paio di allenamenti perché l'adattamento all'intensità, al ritmo delle nostre strutture a volte ha più difficoltà ad assimilarlo, di conseguenza è un giocatore che dobbiamo gestire durante la settimana, Davide Bettella lo sapete, tutte le volte che ha trovato una condizione ha avuto un problema fisico che ne ha rallentato la condizione, ma è tornato disponibile. Buttero mi può fare più ruoli ed è un giocatore che per me quando ha giocato a Parma, nonostante mancasse da tanto tempo, ha fatto bene. Suo Riuela sta crescendo, è un giocatore giovane, e li vedo, li riconosco, delle attitudini, ma secondo me ci sono delle sfumature su cui deve ancora lavorare, e di conseguenza è quando lo stesso Lancini, comunque l'avete visto 20 minuti a Parma, e queste sono le alternative, la valutazione che faccio è il riferimento a quello che vi ho detto prima, per quello che è un mio concetto, e sul fatto che comunque questi ragazzi, sì, è vero che sono a disposizione, ma hanno questo tipo di percorso che vi ho raccontato. Salve mister, Alessandro Arena, giornale di Sicilia. Io le chiedo intanto come ha rivisto Stulaz in questi primi giorni che è tornato con voi, e poi un'altra cosa, il Palermo nelle ultime quattro trasferte è andato tre volte in vantaggio, ma non ha mai portato a casa il risultato. C'è secondo lei un aspetto su cui più di altri bisogna lavorare? Grazie. Stulaz è stata per me chiara la società, ha detto che era un differenziato completo, dunque il ragazzo sta facendo un lavoro che non comprende una parte di lavoro con la squadra, la settimana è andata bene, per quello che meriviscono poi i preparatori atletici, vedremo la settimana prossima se inizierà a fare qualcosa con noi, e di conseguenza comunque bisogna tenere conto che è un ragazzo che è fuori da parecchi mesi, e come vi abbiamo detto si valuterà nella settimana che ci porterà a Cagliari se potrà eventualmente iniziare a allenarsi completamente con la squadra. Il discorso di essere andati in vantaggio secondo me è un valore, sicuramente non siamo riusciti a consolidarlo, quelle partite di cui dici tu hanno anche storie diverse, sicuramente per me è importante andare in vantaggio, e sicuramente dobbiamo crescere non nel gestire, che è una parola che non mi piace, ma nel come poi andare a ottimizzare quel vantaggio, cercando di, come spesso dico, ammazzare le partite quando è il momento di farlo, cercando di trovare anche il gol in più, che ti porta ad avere un vantaggio superiore, e in queste partite probabilmente, anche avendone avute le occasioni, non siamo stati bravi a portarle definitivamente dalla nostra parte. Salvatore Fazio, Rai, salve. Potrebbe essere una partita determinante, in chiave del posizionamento playoff per entrambe le squadre, quanto il Palermo può ancora sperare in questo traguardo, e poi una battuta su Niccolò Maia, che potrebbe realizzare il suo sogno? Sì, la partita è oggettivamente importante, perché la situazione di classifica ci permette ancora di poter ambire a un posto che ci siamo aperti questa possibilità un paio di mesi fa, e che comunque nel nostro cuore c'è ancora, perché anche avete visto i risultati della giornata, sono stati veramente incredibili rispetto a questo, e ti stimolino sempre questo grande equilibrio che regna in questo campionato, e siamo totalmente focalizzati su questa partita, che se facciamo quello che sogniamo e vogliamo fare, può aprire orizzonti comunque importanti, dunque siamo totalmente concentrati sulla partita di Como, nella speranza di fare un risultato che ci permetta poi di coltivare il sogno fino a fine campionato. Rispetto a questa situazione sono contento, era un sogno di questo ragazzo, so che la società è stata molto vicina, ha accolto il suo invito, e dunque siamo felici che lui possa venire alla partita, e speriamo veramente di regalargli una giornata completa, anche dal punto di vista proprio sportivo. Parli anche tu di programmazione, sia per questa parte finale di campionato, ma anche per la prossima stagione. A fare da contraltare c'è una sorta di rumore di fondo, a parte delle critiche, di chi comincia già a dire Corini out. Che ne pensi? Ma fa parte del mio ruolo, e lo comprendo, perché giustamente il tifoso spinge sempre, sogna sempre di vedere la squadra vincere, come vi ho detto, fa parte del mio mestiere. Vi posso solo dire che ho una grandissima motivazione, e ho l'equilibrio necessario per reggere cosa vuol dire questo ruolo. Ho la fiducia completa alla società, che me l'ha sempre dimostrata. Circo quotidianamente di conquistarmi la fiducia dei tifosi, che è anche più scettico, e invito tutti una riflessione anche più ampia, spesso, ma vedo anche tanta gente che mi sostiene, che mi dà una pacca sulle spalle, che mi dice di continuare a lavorare, e di conseguenza sapete quanto sono legato a questa piazza. Io ho il mio sogno dentro, il mio cuore, e farò di tutto per far sì che si possa realizzare. So anche che bisogna passare attraverso momenti magari più complicati, ma quando hai una visione completa, hai una grande passione, e pensi di avere le capacità, sei pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Buongiorno Eugenio, Marco Iopone, Palermo Today. Il Como gioca con un 3-4-1-2 piuttosto offensivo, il trequartista, tendenzialmente Iovine, anche contro Lascoli, è stato molto alto. Nel primo tempo, soprattutto, Buche le ha andato un po' in difficoltà. Ti chiedo se questa loro caratteristica può indurti a optare per un doppio play, magari con Gomes e Bro dall'inizio, per facilitare l'uscita. Grazie. Sì, il concetto è sempre che se un giocatore è marcato, spesso costruiamo quei due giocatori che cercano di far uscire il gioco pulito, posizionando gli altri in posizionamenti strategici per guadagnare campo. È sicuramente una valutazione che abbiamo fatto. A volte ha giocato col trequarti posizionale, a volte ha fatto un 3-5-2, diciamo con un vertice come Bellemo, e i due interni che si alzavano. Se c'è Rigoni viene più a palleggiare, se c'è D'Acugna va più a fare il trequarti offensivo. Dunque sappiamo bene che Moreno, che è un ottimo allenatore, varia questo aspetto tattico. Dunque abbiamo lavorato su entrambe le situazioni, sia per come le vogliamo affrontare dal punto di vista del non possesso, e anche per come vogliamo andare a cercare noi le zone di campo che possono permetterci di diventare pericolosi. Buongiorno, mister. Cettina Pellitteri, Azzurra News. Mi vorrei riallacciare alla domanda del collega Rena, che parlava infatti del fatto che il Palermo va in vantaggio e poi non riesce a gestire. Più che a gestire, la mia domanda è sul reparto difensivo. Ho visto ultimamente delle amnesie in questa fase. Da cosa dipende? Soprattutto i calciatori soffrono molto sulle palle inattive. È un calo di attenzione, di concentrazione. È quello che vorremmo un po' capire. Cosa accade? Anche perché prima della gara col Genova sembrava che lei avesse trovato la quadra, il Palermo era al stesso posto, ha solo i quattro punti dal terzo. Quindi, cosa è successo dopo? Questo calo a cosa è dovuto? Fa parte di un percorso lungo. Vi ho spesso detto che quando cambi tanto, a volte hai dei feedback immediati, ma poi creare una cultura, una mentalità, ci vuole tempo. Andate a vedere chi è arrivato, la condizione, le difficoltà che ha avuto. Ci sono tanti aspetti da valutare. Io penso che la squadra abbia trovato da un punto di vista di un'identità. È cresciuta tanto. Andate a riguardarvi. Spesso abbiamo raccontato di partite che potevano avere un risultato diverso. Dobbiamo lavorare perché non è stato quello che volevamo. Io penso che dal punto di vista difensivo la squadra ha trovato un buon equilibrio, anche quando abbiamo lavorato con giocatori con caratteristiche più offensive. Come vi ho detto, sicuramente dal punto di vista delle palle inattive, ultimamente abbiamo subito qualcosa di troppo. però è un concetto di marcature, di capacità anche di qualità del calcio della squadra avversaria, di saltatori importanti. Abbiamo lavorato su qualche aspetto per consolidare questo atteggiamento, per trovare più sicurezza. Si lavora sempre, ma secondo me bisogna sempre fare di più, bisogna sempre cercare di spingere, ma bisogna anche essere realisti su quello che era il campionato che dovevamo fare, quello che andiamo a voler fare già da quest'anno e soprattutto la visione globale di tutta una situazione complessiva che spesso vi invito a fare. Buongiorno mister, sono qui Nicolò Cilluffo, medical.it. Due brevi domande. La prima, nel caso in cui appunto Nicola Valente non dovesse farcela, se ha individuato in Masciangelo o in Segre l'alternativa più naturale e poi in attacco al fianco di Matteo Brunori se pensa di confermare di nuovo Gennaro Tutino o se potrebbe esserci spazio di nuovo per Soleri dal primo minuto. Grazie. Sì, Segre l'avete visto nella partita col Cosenza in alcuni spezzoni di gara. Masciangelo ci ha lavorato e l'avete visto nell'ospezione di gara di Venezia. Non avendo Aurelio, Masciangelo è tornato a far coppia con Sala a sinistra per avere un'alternativa del ruolo. A destra abbiamo la possibilità di avere giocato di Jacopo. Ho lavorato con altri due giocatori che possono, con attitudini diverse, sicuramente andare a lavorare in quella zona. e di conseguenza ci siamo preparati con delle alternative rispetto al fatto che Nick possa partire dall'inizio o subentrare coprendo il ruolo con Jacopo che sappiamo che lo può fare ma mancando Sarici non voglio togliermi un'alternativa anche a centrocampo perché potrebbe partire dall'inizio o comunque subentrare e dunque le valutazioni che ho fatto sono tante. Ho ancora un allenamento per andare a definirle. Su quali alternati? Sì, sì, li ho alternati nelle ultime partite e di conseguenza anche su questo ho ancora la rifinitura per poi decidere quale sarà l'attaccante che poi andrà a fiancare Matteo. Tutto il mondo e poi a chiudere Mastolino, Vitale e Rai. Buongiorno mister, Manfredi Mera e Tutto il mondo forzapalermo.it Tralasciando le ultime settimane le partite che si sono giocate la classifica al netto delle penalizzazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni dice che il Palermo è nei play-off in questo momento se non di fatto quasi e quindi mi chiedo voi già nello spogliatoio vi siete dati adesso a quattro giornate dal termine un obiettivo ben preciso nel senso quello che mi chiedo io non è adesso un'occasione fin troppo ghiotta da sprecare con questa classifica con tanti meno con delle partite che questa squadra può adesso vincere? Grazie. Guarda, l'abbiamo sempre fatto per tranquillizzarti l'abbiamo sempre ragionato quotidianamente settimanalmente abbiamo sempre preparato con grande attenzione tutte le partite a volte ci sono riuscite bene altre volte meno bene a volte siamo stati penalizzati e va bene così fa parte del calcio di conseguenza anche in queste quattro l'abbiamo fatto veramente allenandoci in campo allenandoci qua da un punto di vista del video sulla preparazione allenando anche da un punto di vista mentale la squadra a far capire quanto sono importanti certi dettagli ci crediamo vogliamo fare un grande finale di campionato e sappiamo che la partita di Comodo da questo punto di vista può aprire scenari molto importanti e vogliamo farlo vedere in campo non solo con delle prestazioni secondo me che sono state fatte anche bene ma con una prestazione completa anche a volte sporca ma che porti a un risultato importante Buongiorno mister Fabiana Mascolini del Sicilia.it Le volevo chiedere in difesa sembrava che il terzetto abbia trovato un suo equilibrio una sua compattezza come detto poco fa dalla collega sembra che ultimamente sia meno lucido in vista della partita contro il Como che presenta un reparto offensivo abbastanza insidioso con nomi particolari su che elementi ha lavorato o ha dato maggiore attenzione? Abbiamo lavorato su tutti gli elementi che sono a disposizione sia da un punto di vista collettivo sia da un punto di vista individuale sia da un punto di vista dei video anche oggi abbiamo fatto una seduta supplementare per come andare a difendere sul lato per come difendere a centro aria e di conseguenza tutti i giocatori che ho a disposizione sono pronti allenati a capire quali sono le situazioni su cui dobbiamo essere bravi a controbattere sul valore dell'avversario che hanno perché spesso quando vanno al cross hanno grande struttura e attaccanti molto abili al gioco aereo sono i primi dal punto di vista delle inattive a favore a livello di pericolosità e per gol fatti e di conseguenza abbiamo lavorato su questi aspetti che sono poi determinanti per portare a caso un risultato positivo o meno Vitale Sì Eugenio volevo fare un attimo un punto della situazione su Verre c'è un giocatore che all'inizio ha avuto un impatto incredibile e ti ha dato quell'innalzamento qualitativo che tu chiedevi per la tua squadra poi per tutta una serie di motivi sappiamo dei due attacchi febbrili che lo hanno debilitato sei stato costretto anche a sostituirlo sostituzioni che ti sono costate anche un bel po' di critiche perché giustamente la gente dice il giocatore maggiormente dotato dal punto di vista tecnico come fa a toglierlo vorrei capire Verre come sta come lo vedi e se ti sta dando in questa fase dopo il suo diciamo problema fisico quello che gli chiedi grazie sono tanti gli aspetti su cui sto lavorando con Valerio per l'età che ha e per la maturità che ha acquisito sto cercando di fargli capire quali sono i dettagli che per me lo possono portare ad essere un giocatore veramente a 360 gradi io lo dico perché ne ho parlato con lui anche proprio due giorni fa gli ho voluto parlare individualmente gli ho fatto un esempio tra due giocatori del Real Madrid che sono Isco e Modric ho detto qual è il giocatore che ti assomiglia di più e lui mi ha detto Isco e io lo comprendo io gli ho detto io voglio farti diventare Modric perché Modric che è un giocatore con una qualità tecnica straordinaria è diventato un uomo squadra nel tempo si è sentito la responsabilità non di essere solo un grande palleggiatore un grande assist ma ha cominciato a diventare un uomo squadra un uomo squadra si sente delle responsabilità diverse che deve essere qualitativo ma sa che deve partecipare a una fase di non possesso che è altrettanto importante deve essere dentro la partita ogni secondo la deve saper leggere e io penso che Valerio abbia le qualità tecnico tattiche e anche mentali per spingere a diventare quel tipo di giocatore ed è un percorso che va fatto nel tempo io non mi posso accontentare che possa essere solo un giocatore offensivo soprattutto a una squadra che gioca con due punte con un tornante offensivo e con un centrocampista con attitudini offensive l'equilibrio generale rispetto a questo è sempre fondamentale per rendere una squadra vincente quando dico che ogni tanto bisogna sporcarci un po' è questo aspetto e su questo sto lavorando con lui dove sicuramente da un punto di vista condizionale bisogna dirlo le difficoltà che ha avuto con la Gasto Interite con la febbre molto alta a livello di tonsille dunque sicuramente gli ha provocato anche da questo punto di vista un rallentamento e soprattutto anche una ripresa un po' più lenta dunque a livello condizionale secondo me oggi può avere 60-65 minuti intensi e vorrei che li facesse intensi poi ci lavoriamo sugli altri 25 che mancano ma lì lo voglio più connesso lo voglio più completo lo voglio più incisivo su tutte le varie fasi di gioco e per diventare vincenti questa squadra come vi ho detto mesi fa deve capire quanto è importante fare insieme il lavoro sporco perché il lavoro sporco si pulisce insieme poi la palla si riporta di là e tiriamo fuori le nostre qualità le nostre attitudini questo è un lavoro quotidiano questo è un lavoro che richiede tempo questo è un lavoro che richiede errori anche io vorrei tutto e subito ma purtroppo a volte devo avere pazienza so che per voi e per i tifosi è più difficile io spingo quotidianamente cerco di valorizzare determinate cose cerco di far capire dov'è lo spunto dove dobbiamo andare avanti e quando lo faccio individualmente io più di ogni giocatore mi prendo qualcosa oggi l'ho fatta con Matteo Brunori oggi l'ho fatta con Marconi voglio sempre di più si devono sentire responsabili sempre di più attraverso loro cresciamo e anche il collettivo si accompagna dobbiamo creare una struttura la stiamo facendo dobbiamo finire molto bene questo campionato al meglio possibile per far sì che questa mentalità sia radicata e che l'anno prossimo possa dare frutti importanti sempre con il fatto che quando ci sono 4 partite da giocare un playoff da raggiungere la vita mi ha insegnato che può succedere sempre di tutto sì e per concludere volevo chiederti tu la scorsa stagione hai fatto l'ultima parte sulla panchina del Brescia e c'è una squadra che è Perugia che esattamente a 4 partite era 5 punti dal Frosinone voi siete a 2 dall'ottavo posto tu oggi hai un giocatore di quella squadra che è Segre volevo chiederti ci sono delle analogie secondo te tra quel Perugia che ha fatto quell'impresa e il Palermo di oggi? ci sono perché anche il Perugia comunque aveva fatto un buonissimo campionato sempre a volte si era trovato settimo ottavo poi perdi una partita ti trovi undicesimo come un po' la serie B e per farvi capire a volte come cambia l'inerzia quanto è importante crederci quanto è importante a volte avere una visione completa e concentrarci su quello che puoi fare tu e sulle cose che controlli il Perugia c'era questa partita col Monza dove il Monza ha portato tutte le famiglie stavano preparando i festeggiamenti perché vincendo avrebbero vinto poi il campionato per farvi capire a volte come cambia l'inerzia il Pisa va a Frosinone e batte il Frosinone quando il Pisa comunque era il playoff supera il Monza noi ci troviamo a giocare contro il Monza col Brescia che probabilmente avremmo giocato contro il Pisa che in quel momento era un pochino più in calo e di consenso avremmo trovato noi come Brescia in semifinale il Pisa rispetto al Monza e abbiamo trovato dopo aver superato il turno con il Perugia e questo fa capire a volte come le condizioni sono veramente leggere e noi dobbiamo essere bravi andare lì era troppo importante che quel cavolo di gol fosse stato dato buono io ho una mia idea anche su quel gol lì e mi piacerebbe dirvi cosa penso di quel gol lì cosa avrebbe significato per noi il gol fatto da Bro nell'ultimo minuto quando a volte l'inerzia la sposti hai bisogno nella roba sporca di portarla dalla tua parte poi il pallone diventa più leggero diventa tutto più facile dobbiamo coglierla io l'ho fatta vedere stamattina avete visto siamo arrivati a un centimetro per cambiare l'inerzia siamo rimbalzati perfetto ci dobbiamo credere ancora di più perché quella roba l'abbiamo saputa fare abbiamo saputo recuperare una palla nella nostra metà campo con un giocatore che era entrato cinque minuti prima quando vi dico che ogni giocatore anche per un minuto di partita può essere decisivo può fare una giocata importante e Vido mette davanti alla porta segre che era un subentrato parla il portiere un altro subentrato prende la palla e fa gol quello vuol dire essere squadra in queste quattro partite non ci sono egoismi non c'è niente c'è un obiettivo comune e tutti devono sentirsi partecipi per portare questa cosa dove vogliamo noi ultimamente siamo rimbalzati dobbiamo crederci di più dobbiamo spingere di più siamo noi che possiamo fare queste cose su questo lavorato e mi aspetto domani di vedere questo tipo di atteggiamento in tutte quelle virgole che cambiano poi i risultati di una partita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti